Il secondo convegno della giornata è molto importante per la nostra provincia e a dare un lancio, una prima indicazione alla strada che dobbiamo percorrere per cercare di capire queste tematiche a Bruno Zanolla che è l'assessore provinciale all'urbanistica ma in questo momento impegnato in conversazione. Allora io approfitto di questo breve momento di pausa per segnalare l'andamento di questo convegno. I saluti poi del Presidente del Consorzio Organizzatore assieme a molti altri enti che vedo qui dal Centro Consorzi, l'Unione Artigiani, Provincia di Belluno, il Comune di Longarone, Longarone Fiere eccetera eccetera, ad Elio Darold. Subito dopo ci sarà l'architetto Franco Alberti che spiegherà il progetto europeo Alpaus. Ho chiesto ai relatori se posso fare delle domande. Voi che siete qui sicuramente siete degli esperti ma coloro che ci seguono a casa probabilmente sono nelle mie stesse condizioni di avere molte informazioni ma a volte un pochino confuse. Quindi chiedo scusa a voi che siete presenti e che sicuramente troverete magari banale e superflua una precisazione perché lo facciamo a beneficio di coloro che ci seguono a casa sperando naturalmente da parte mia di interpretare i dubbi, le perplessità o anche le incomprensioni che ne possono derivare dalle spiegazioni. Subito dopo l'esempio pratico come vi ho detto è l'architetto Renato Migotti che ha realizzato e ha applicato queste teorie, questi protocolli, queste filosofie, poi cercheremo anche di capire qual è il termine esatto, a Pieve di Cadore. Anche in questo caso mi sono già fatto spiegare alcune cose, ha coinvolto molti artigiani. Serve anche a una riqualificazione di quello che è un patrimonio culturale e artistico, forse il termine non è esagerato, della nostra provincia. C'è quindi uno sguardo anche a quello che siamo stati proiettato, quello che potremmo essere naturalmente con i dovuti aggiornamenti. Poi andiamo a toccare un altro argomento, questo per la verità già più volte selezionato nei convegni, che è quello di Casa Clima e a parlarcene nella riqualificazione energetica. Quindi entriamo nel merito di un argomento quanto mai attuale, visto quello che sta succedendo in giro per il mondo e la necessità che abbiamo di consumare meno ma anche di risparmiare in senso più ampio. Il dottor Rudi De Battista e poi le proposte formative del Centro Consorzi perché tutto questo apre la strada a nuove professionalità, perlomeno si spera che così sia. E quindi Michele Talo, assieme al Centro Consorzi, già si stanno attivando per poter preparare queste nuove figure professionali, spiegherà quali sono i nuovi indirizzi da poter seguire per trovare spazio un domani nel mondo del lavoro che va costruendosi. Alla fine è previsto un dibattito, anche se penso e sono certo che i redattori saranno esaustivi e spero che le domande che farò possano aiutare in qualche modo a togliere qualche dubbio, sempre confidando, e lo dico con la massima umiltà, di non fare domande eccessivamente sciocche. Grazie. 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 Grazie.